E se neanche i vigili vengono risparmiati dalla cattiva educazione, allora le speranze di vedere il valore umano del rispetto alla base di ogni rapporto civile tra le persone si affievoliscono sempre più. Indifferenza e non curanza sono stati invece i sentimenti con cui è stata gestita una situazione a dir poco paradossale a Sala Consilina, dove gli agenti della Polizia Municipale si sono ritrovati bloccati per circa tre quarti d'ora da un'auto parcheggiata in malo modo e peraltro in un posto riservato alle auto comunali. Per la sua assurdità potrebbe anche strappare dei sorrisi se non fosse che l'episodio fa comprendere quanto non si avverta più neanche il timore reverenziale, una soggezione psicologica nei confronti dei rappresentanti autorevoli che indossano una divisa. Nella serata di ieri nel centro di Sala Consilina una vettura è stata parcheggiata in malo modo nei posti riservati alle auto dei vigili urbani sotto la casa comunale, nonostante nei pressi del luogo fossero presenti numerosi altri spazi di parcheggio pubblico, peraltro senza la necessità di dover pagare la sosta. Posizionata di sguincio e vicinissima all'auto della Polizia Municipale, la vettura ha impedito l'uscita dei vigili che dovevano effettuare i quotidiani e mirati controlli sul territorio. Evidentemente i parcheggi disponibili erano poco comodi per il proprietario della vettura che ha ben pensato di utilizzare il posto riservato ai vigili lasciando l'auto a pochi millimetri dalla loro auto di servizio. Amara sorpresa degli agenti che si sono ritrovati impossibilitati ad utilizzare l'auto per i controlli previsti e che non hanno potuto far altro che levare la multa e chiamare il carroattrezzi per la rimozione dell'auto. Decisione rivelatasi inutile a quanto pare, dato che l'auto incriminata era parcheggiata talmente male che non è stato possibile rimuoverla, altrimenti sarebbero state danneggiate ben tre vetture, di cui una di proprietà pubblica, ossia l'auto dei vigili, e l'auto di un privato, altra vittima della cattiva educazione del parcheggiatore incivile, che aveva lasciato la sua auto a pochi millimetri di distanza ad entrambe. Una lunga ed estenuante attesa alla ricerca della persona che lasciata l'auto si era poi disinteressata del fatto che nella sua azione aveva bloccato ed impedito l'utilizzo di altre due vetture, tra cui quella dei vigili urbani, costringendoli ad una interminabile attesa. L'arrivo del titolare della vettura, dopo 45 minuti circa, ossia quasi un'ora di attesa, ha poi ulteriormente indispettito i vigili che si sono ritrovati a fare i conti con una persona che, presa la multa, si è allontanata incurante del disservizio arrecato a tutta la comunità, dato che i vigili non hanno potuto effettuare il loro giro di controllo e manifestando peraltro totale disinteresse verso gli altri.